De Luca non è mai stato così chiaro sull'ospedale. Il direttore generale Iervolino non ha fatto altro che confermare quello che era stato disposto dal governatore. C'è chi continua a fare chiacchiere, volevano fare ancora politica sull'ospedale, ma si devono rassegnare. Iervolino mi ha confermato che c'è il conto alla rovescia. Comincia così l'intervento del sindaco Alfieri, in diretta su Cilento Channel, nel giorno dopo l'incontro con Mario Iervolino, direttore generale dell'Asla Salerno. Il primo cittadino di Capaccio Pestum continua con decisione a parlare della vicenda ospedale di Agropoli. Quando c'è la volontà politica forte si fa tutto ed è venuta l'ora di mettere in pratica quello che ci aspettavamo. Questo è il tempo del riscatto, sottolinea Franco Alfieri. Agropoli sarà complementare con Vallo e daremo una risposta dignitosa al territorio. Quello che interessa a noi è rientrare nella rete dell'emergenza H24 con radiologia, laboratorio di analisi e guardia cardiologica. Avendo spazi disponibili l'ospedale sarà riempito senza doppioni di altri ospedali. Ci saranno potenziamenti importanti anche più in avanti come la camera iperbarica. Alfieri interviene anche sulla questione personale medico che è sostanzialmente l'unica situazione che rallenta la riapertura. È innegabile la difficoltà nel reperire radiologi, anestesisti e cardiologi ma grazie al forte input del governatore, afferma Alfieri, si attiveranno la mobilità, le graduatorie, gli avvisi pubblici, l'Alpi. Iervolino già ne ha parlato, si attiverà tutto il possibile. Gli infermieri verranno presi tramite la mobilità, il personale di Agropoli alla chiusura fu distribuito in altre strutture e ora faranno rientro. Hanno il diritto di rientrare nella propria città. In chiusura Franco Alfieri risponde a chi parla di malcontento nei confronti dell'operato del sindaco agropolesi Adamo Coppola ma anche alle accuse ricevute. Si pensa che io voglia dire che Adamo deve essere rimpiazzato ma si sta dimostrando un ottimo sindaco e in giro non ci sono persone che possono fare meglio di lui e chi si sta candidando sicuro non è meglio di lui. Io di Agropoli mi preoccuperò sempre perché come sindaco mi ha fatto fare esperienza, sono grato alla città e la servirò sempre. L'ospedale serve anche a Capaccio Pestum e a tutti i comuni dell'Alto Cilento. Fino a quando sarò trattato bene ad Agropoli sarò presente. Sul territorio c'è chi sa fare politica e ha il consenso della gente quindi rassegnatevi conclude il sindaco di Capaccio Pestum. Alfieri però è stato anche critico affermando che questi interventi naturalmente potevano essere fatti prima ma la sanità regionale ha avuto noti problemi di commissariamento adesso terminati ed ora c'è la possibilità di intervenire su Agropoli e di inserirlo nel piano ospedaliero. In chiusura il sindaco rassicura anche sui atti di riapertura del nosocomio agropolese chiarendo che arriveranno nei prossimi giorni e che verranno immediatamente forniti e sulla durata del pronto soccorso H24 nel presidio che non è provvisorio ma a tempo indeterminato. Il pronto soccorso resta conclude Franco Alfieri sindaco di Capaccio Pestum.